È stato reso noto questa mattina dalla Guardia di Finanza di Pesaro il termine di un'importante operazione per contrastare un intricato broglio fiscale realizzato da un imprenditore di origini toscane e residente in Lombardia, che per portare a termine la frode aveva operato anche sul territorio pesarese rivolgendosi ad uno studio cittadino. Indagini che si sono concluse con il sequestro di una billetta dal valore di 120.000 euro appartenente all'uomo, il cui ruolo era quello di rappresentante legale di una società attiva nel milanese. Le indagini condotte dalle fiamme gialle hanno portato quindi a scoprire che la società per cui lavorava l'imputato si è resa protagonista di un importante reato fiscale, quello dell'indebita compensazione di crediti IVA, la cui conseguenza è un pagamento delle imposte inferiore rispetto al dovuto e utilizzando crediti inesistenti. Nel corso del 2017 l'imprenditore Lombardo, per completare l'operazione, si è avvalso della consulenza di uno studio pesarese, che però è risultato essere estraneo ai fatti. Le indagini patrimoniali condotte nei confronti dell'imprenditore e della sua società hanno portato quindi a sequestro da parte della Guardia di Finanza di una billetta appartenente all'uomo e situata in provincia di Lecco, il cui valore ha permesso di ristorare per intero il debito accumulato. L'imprenditore che attualmente si trova in carcere è risultato essere solito a questa tipologia di reati, avendo già raccolto numerosi precedenti di polizia per frode fiscale, estorsione e riciclaggio. L'attività svolta dalle fiamme gialle pesaresi si inserisce nel quadro delle operazioni a contrasto di fenomeni silenziosi ma dannosi per l'intera collettività.